Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla Firenze Mare verso Firenze, 3 km di coda per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Ovest e Firenze Peretola e coda per traffico tra Pistoia e il Bivio con la 1. E' la 12, 1 km di coda e attratti per lavori verso Genova tra Bivio a 12, Dramazione Livorno e Pisa Centro. Arriviamo in Fipili per traffico, coda e attratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandici in carreggiata opposta a coda in uscita a Scandici a Santa Croce. Per il traffico ferroviario per un guasto sulla linea tra Arezzo e Montevarchi adesso risolto, i treni in linea mantengono ritardi, variazioni o cancellazioni, tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, la città metropolitana di Firenze e il comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!